10 poltrone al massimo due nomi esterni al femminile per cercare in qualche modo di rispettare almeno in parte la parità di genere il neo governatore di puglia michele miliano prova ad abbozzare una prima rosa di nomine per formare la nuova squadra di governo emiliano insiste però nella sua linea con una giunta per metà fatta di donne l'unica strada praticabile al momento sarebbe quella di modificare lo statuto per eliminare il limite massimo di due assessori esterni in ogni caso il presidente della regione dovrà fare i conti con le rivendicazioni territoriali oltre che politiche la vicepresidenza ad esempio spetterebbe ad una provincia diversa da bari e si pensa proprio a lecce una scelta rimarcata più volte dal consigliere più suffragato di tutta la puglia sergio blasi ti pone addirittura una sorta di out out la provincia di lecce si aspetta almeno un paio di poltrone oltre a blasi ci sarebbe ernesto abaterusso secondo nella lista salentina del pd e sebastiano leo eletto con noi a sinistra molto vicino a dario stefano in pole position salvatore negro consigliere centrista dei popolari e la stessa loredana capone assessore uscente non rieletta nonostante le quasi 13.000 preferenze che però potrebbe essere ripescata da emiliano per taranto ottime chance per gianni liviano mentre a brindisi in lizza i due eletti pino romano e fabiano amati e la capolista non eletta antonella vincenti coordinatrice della conferenza delle donne del pd il nuovo presidente della regione in questi giorni è alle prese anche con altri due temi importanti innanzitutto il nodo che riguarda le società partecipate nel complesso gioco di incastri pesi e contrappesi emiliano proverà a ridisegnare gli assetti organizzativi e amministrativi dei nuovi vertici all'insegna della competenza e della trasparenza altro nodo cruciale le asl pugliesi i sei direttori generali alla guida delle aziende sanitarie locali sono stati selezionati e piazzati al timone della giunta vendola appena pochi mesi fa è facile prevedere che i manager resteranno al loro posto per ora anche se emiliano ha già tratteggiato l'ossatura della nuova governanza sanitaria con nomine che saranno affidate probabilmente ad un consiglio superiore della sanità il fantasma delle ruspe torna a scuotere gli animi degli agricoltori salentini che ieri sono tornati nelle campagne di veglie in particolare incontrata la duchessa per protestare contro l'abbattimento degli ulivi la tensione era già salita mercoledì sera quando alcuni proprietari terrieri avevano ricevuto nuove notifiche di provvedimenti di estirpazione con efficacia a partire dall 11 giugno le radicazioni non si sono però verificate anche perché pare che d'ora in poi prima di intervenire con le ruspe verrà chiesto il parere dell'avvocatura dello stato per legittimare le azioni ed evitare nuovi intoppi giudiziari coinvolti nei disordini di ieri anche gli esperti dell'osservatorio fitosanitario della regione e del corpo forestale dello stato che stavano campionando nuovi ulivi per verificare la presenza del batterio killer e stilare una mappatura delle zone infette prima che il secondo piano si letti diventi operativo prevista infatti per il 18 giugno la conferenza stato regioni che si esprimerà sul decreto di lotto obbligatoria contro la axilella dando ufficialmente l'ok all'inizio delle operazioni come ricordato dallo stesso silletti il nuovo piano sarà identico alle disposizioni comunitarie dello scorso 18 maggio se un olivo ai sintomi della axilella la sua estirpazione quella di tutti gli alberi e piante presenti nel raggio di 100 metri sarà obbligatoria un copione che si ripete e che porterà certamente altri disordini tra le campagne del salento intanto la axilella fastidiosa sotto specie pauca è stata isolata anche sugli ulivi argentini non era ancora successo finora che questo ceppo del batterio intaccasse anche altri esemplari fuori dai confini pugliesi gli scienziati argentini dalle prime analisi effettuate hanno confermato che si tratta della sputacchina ma prima di procedere con qualsiasi tipo di azione drastica sulle piante effettueranno dei test per verificare la relazione tra il dissecamento degli olivi e la presenza di axilella se in argentina si attendono i risultati degli studi prima di intervenire in puglia si procede con le ruspe smantellando il patrimonio olivicolo del territorio salentino sesso in cambio di voti è fissata per il 4 novembre prossimo a carico dell'ex vice sindaco di porto cesario antonio greco poi dimessosi e l'ex assessore comunale cosimo presic la prima udienza di fronte ai giudici della seconda sezione penale di lecce i due sono stati rinviati a giudizio nello scorso aprile dal pubblico ministero carmen ruggero titolare dell'inchiesta con le accuse di sfruttamento della prostituzione e voto di scambio il gruppo antonia martalò nell'inchiesta preliminare di ieri ha accolto le richieste della procura la vicenda risalirebbe al periodo delle amministrative del 2011 a porto cesario greco e presice avrebbero offerto ai potenziali elettori in cambio di promesse di voto prestazioni sessuali da parte di giovani donne rumene in festini che si svolgevano in un appartamento in località il poggio le indagini rese particolarmente difficili dalla delicatezza dell'argomento e per le mezze a missioni dei presunti partecipanti ai festini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di campi salentina questo luogo è appartenuto ad una organizzazione criminale ad una organizzazione mafiosa e ora viene restituito ad una funzione sociale e quindi abbiamo tutti una grande responsabilità perché avendo sottratto questo bene alla mafia noi dobbiamo dimostrare di essere all'altezza del compito noi istituzioni noi cittadini noi associazioni perché attraverso il recupero efficace di questo patrimonio sottratto alla mafia noi dobbiamo generare delle utilità per questo territorio e alimentare un ciclo positivo di crescita economica di sviluppo di recupero sociale questo centro questa struttura ha una missione molto delicata che è quella di costruire un percorso di natura professionale per ragazzi in difficoltà e quindi la responsabilità che abbiamo tutti è molto molto alta io penso quindi che sarà importante seguire lo sviluppo di questo progetto sostenerlo e praticare il massimo rigore la massima attenzione perché possa diventare un ottimo esempio da imitare quindi anche a livello occupazionale può essere un ottimo strumento per incentivare anche l'occupazione giovanile in questo periodo certo questo dipende da noi dipende da come questa struttura verrà gestita e dipende dai successi che verranno conseguiti attraverso le attività formative noi speriamo che abbia un impatto per ripristinare oltre che la legalità e la giustizia che in qualche maniera è stata ripristinata nel momento in cui il bene è stato confiscato alla criminalità organizzata l'impatto intanto il progetto ha una valenza sovracomunale per via di un protocollo di intesa che il comune di salve ha stipulato sia con la provincia di lecce che con gli ambiti territoriali di galliano e casarano perché si trattava di uno dei beni confiscati alla sacra corona unito uno dei più grandi in provincia di lecce per cui abbiamo ritenuto darle una valenza appunto sovracomunale e in questa valenza sovracomunale le finalità è quella del rinsiedimento l'integrazione e creare nuove opportunità di lavoro ai giovani i giovani che costituiscono oggi diciamo l'anello debole della catena di questa società odierna e speriamo possa essere un esempio l'auspicio è quello che possa essere un esempio per ripristinare in maniera forte la presenza dello Stato oggi qui è forte la presenza non perché vi sono le autorità i rappresentanti delle istituzioni ma perché questo esempio dimostra che quando si vuole si può ripristinare legalità giustizia quindi sicurezza e creare opportunità lavorative in questo caso come dicevo prima per i giovani appunto si parla molto di disoccupazione secondo lei questo progetto potrà avere anche dei finanziamenti da parte della regione appunto per l'occupazione giovanile in questo progetto sono stati realizzati dei laboratori per far apprendere ai giovani a rischio tra i 14 e i 21 anni far apprendere i mestieri tipici proprio dell'artigianato salentino quindi parliamo di carta pesta parliamo di lavorazione della pietra leccese del carparo tutti i mestieri appunto tipici della nostra terra via un soggetto gestore e ovviamente nel momento in cui entrerà in funzione perché noi oggi lo restituiamo diciamo alla comunità ristrutturato recuperato e quant'altro e ovviamente sarà cura del soggetto gestore che l'associazione santa caterina trovare le forme i finanziamenti i contributi per poterlo ovviamente portare avanti nel migliore dei modi questa è la vittoria della legalità della forza della tenacia degli amministratori puliti che meritano di essere sostenuti in questa loro azione forte perché poi alla fine dopo tutto l'investimento che c'è stato c'è sempre la possibilità di offrire un servizio alla nostra collettività collettività salentina perché come abbiamo detto questa questa splendida struttura servirà possiamo dire gran parte del sud salento e coinvolgerà sicuramente gli ambiti territoriali sia di Gagliano del Capo che quello di Casarano che sono quelli più immediatamente vicini quindi una bella soddisfazione aver recuperato riportato nel patrimonio della legalità un bene che era stato prima oggetto di percorsi tortuosi malavitosi che lo avevano portato a causato non pochi problemi anche in termini di gestione Ennesimi episodi di incendi ai danni di automezzi quattro roghi sui quali stanno indagando i carabinieri hanno interessato nella notte altrettanti autoveicoli nel primo caso un impianto di aria condizionata difettoso avrebbe causato l'incendio a tigiano di una smart di proprietà di un 67enne del posto i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme ne hanno riscontrato la natura accidentale informando i carabinieri della compagnia di tricase altri due incendi sono divampati a san foca e a sant'andrea nel primo caso il rogo di probabile natura accidentale ha interessato il veicolo di una casalinga di 67 anni mentre il secondo episodio avvenuto a sant'andrea ai danni di un furgone agricolo di proprietà di un quarantenne e di origine dolosa vicino all'automezzo infatti i vigili del fuoco hanno ritrovato una bottiglia in plastica imbevuta di liquido infiammabile i due casi sono al vaglio dei carabinieri di lecce più grave l'episodio avvenuto sempre in nottata a casarano ai danni di un audi di un pensionato di 72 anni il mezzo infatti era già stato interessato da un incendio la notte del mercoledì ed era stato danneggiato nella parte anteriore gli uomini dei carabinieri della compagnia locale hanno ascoltato il figlio del pensionato che spesso utilizza il mezzo ed eseguito altri rilievi poiché è accertata la natura dolosa del rogo altri risconti si attendono in tutti e quattro i casi anche da eventuali sistemi di videosorveglianza in zona è stato inaugurato a milano dal presidente della camera di commercio di lecce alfredo prete salento village vetrina dedicata all'artigianato e sapori tipici salentini con esposizioni degustazioni workshop convegni e spettacoli di pizzica e molto altro ospitata a milano negli spazi del fuori expo di confartigianato italian makers village in programma fino al 15 giugno alla cerimonia partecipato il presidente nazionale di confartigianato giorgio merletti presente tra gli altri anche francesco lenoci vicepresidente dell'associazione regionale pugliesi di milano come ha sottolineato il presidente alfredo prete salento village rappresenta un'occasione importante per far conoscere i nostri prodotti anche al di fuori dei confini territoriali soprattutto in un momento storico come questo in cui la domanda interna è molto spesso ferma nonostante i tagli del governo renzi la camera di commercio di lecce è sempre in prima linea nella promozione dell'eccellenza del territorio salentino ed expo rappresenta una grande occasione abbiamo deciso di finanziare questo progetto propostoci da confartigianato continua prete proprio perché crediamo che i nostri prodotti tipici non solo enogastronomici ma anche dell'artigianato artistico possono avere un forte appeal nei confronti degli utenti che vivono fuori dal salento milano è una piazza importante sono tanti infatti i lombardi che vengono da noi a trascorrere le vacanze e sono innamorati non solo delle bellezze del territorio ma anche della bontà dei nostri prodotti salento village è un'iniziativa organizzata dalla camera di commercio di lecce in collaborazione con confartigianato imprese con commercio confesercenti e cna di lecce insieme ai gal terra d'otranto santa maria di leuca terra d'arneo e l'associazione regionale pugliesi di milano pochi partecipanti presso i cosiddetti stati generali delle associazioni a sostegno del tifo leccese riuniti ieri sera presso il cinema dell'antoniano si pensava ad una maggiore affluenza viceversa non si è registrato una partecipazione significativa intanto in programma il 24 luglio prossimo una partita al via del mare in ricordo della prima storica promozione del lecce in serie a a 30 anni dalla stessa e il primo passo di rinascita giallorossa progetto già presentato alla città da corrado iurlano l'iniziativa che traghetterà i contenuti nella fondazione franco iurlano nome che brucia ancora oggi nei cuori di tifosi leccesi nasce con l'intenzione di creare le condizioni per la sopravvivenza del calcio a lecce in un momento storico di alta incertezza un team di professionisti per dare un futuro al club giallorosso e garantire una squadra di calcio alla città anche diversa dall'us lecce se savino tesoro decidesse di restare al comando del club 100.000 euro di patrimonio ed il tempo necessario per ottenere le autorizzazioni regionali e sportive e riunire tutti i sostenitori finanziari in grado di garantire la tenuta sportiva sociale e storica del lecce il team di rinascita giallorossa fa sul serio Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!